Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi siamo di nuovo qui al campo con ZV Ciao ragazzi E riproponiamo la challenge che abbiamo fatto con il Miga 10 palloni dal limite, devi segnare 3 gol, 1 a testa Se esprimente parte Greg, se gli segni lui esce, viene eliminato, subentra un altro Quindi in teoria ti bastano 3 gol, hai 10 tiri per eliminarlo Ok, tosta ma non è impossibile, si può fare Penso di rifarcela Su 10 tiri 3 gol, penso di sì Dai adesso me la sono guffata tanto Però spero di sì, ecco, più che penso di sì, spero di sì Dai, iniziamo Pallone del 2006, vediamo come va Ah, con rimbalzo, però me l'ha presa Non sono riuscito ad alzarla bene Uh, tosta Pelo Terzo tiro, proviamo a fare gol perché voglio vedere un altro portiere all'opera Bravo Eh sì, eccolo Change, change, hai qualche commento? Quel pallone lì dovrebbero abolirlo dai campi di calcio, questo è il mio commento Però merito Antonio comunque Hai tolto Sento la pressione ragazzi Eh, occhio perché sto scaldando il piedino eh Quarto Uh, che ha preso Grande piede Bella parata Bravo Me ne mancano quattro Due palloni a testa Per i portieri E Boh Speriamo che vada bene È che La parte di destra non è che mi faccia impazzire Perché io apro molto Però Teniamo così Ha girato la fine Stiamo attenti Questa l'ho sentita Male? Eh Tirerà più piano dai Hai ragione Vado di esterno Ma dai cosa ha preso? No No Sull'esterno no Ma voi Ma voi Era l'esterno Ed è anche Esciuto bene Bello Cavolo Eh raga Se la stanchezza inizia a farsi sentire Però è anche un gran portiere Pied Oh avete vinto alla fine Ultimo tiro È l'ultimo tiro per la gloria Dai Infatti lui guarda com'è È lì sdraiato Ultimo tiro ragazzi No No Ti stavo fregando Almeno l'ha toccato però È toccato la pelle Vabbè raga avete vinto voi Provi Siamo riusciti a vincere una challenge contro Un altro creator Sì non per merito il mio Però Siamo stati impegnati comunque Vabbè già no Però Io no Ci sono stati dieci tiri Comunque non così Super easy Hai fatto anche delle belle parate C'è da dire questo Anche il Greg È un Una Sni Dopo Dopo rivedere Sapevo che avevi voglia di metterti in mostra E ti ho lasciato tutto Anch'io hanno fatto due belle Troppo sentili Troppo sentili Bene Pie Oh io prima o poi voglio la rivincita Assolutamente Quando vuoi Molto volentieri Io ti ringrazio Per aver Grazie a voi È stato il tuo piede A questa challenge Super piacere Mi allene dopo Assolutamente Noi lasciamo tutti i suoi canali social Qua sotto in descrizione Mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un bel like qua sotto E condividete il video Attivate la campanellina Perché quella fa sempre bene Assolutamente Iscrivetevi E fate un salto anche sul suo di canale Yep Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao No 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 No